Vai, donna! Sei felice? Sei, donna! Signora, abbiamo un regalo per lei. Un uomo molto gentile, grazie. Quando ho cominciato a capire un po' il Mila, il Mila, il Mila, non mi ha lasciato. È vero che non ha dormito? Questa notte non ho dormito. Questa notte non ho dormito. Il Mila, il Mila, il Mila e basta il Mila. Go, nonna! Go, nonna! Go, nonna! Ti ha dato un po' anche chi è il suo giocatore preferito di questo? Primo, Donnarumma. E poi, Ibra. Anche mia mamma dice così. Fatti bravi che ho scelto tanto per te. Grazie, grazie. Tante cose. Grazie. È mia nipote che mi ha fatto venire qui con tanto amore. Te lo ringrazio. E le do anche un bacio. Forza mille! Forza! Forza mille! Forza mille! Grazie a tutti.